Le foto e i video dell'album sono stati realizzati a Roma, all'autodromo di Vallelunga, a Roncilione e al Lago di Vico nel periodo 2011-2020. L'Ermini è stata fondata nel 1932 da Pasquale Ermini a Firenze, operando come preparatore di vetture sportive. Dal 1946 al 1955 vengono costruite 28 vetture sportive, tra cui un Alfa Romeo 2005 SS Fiat Ermini che conquista nel 1946 il titolo di vice campione italiano della categoria sport maggiore. È una testa, testa atmosferica sui sport, che si aggiudica il settimo posto assoluto alle mille miglia del 1947. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!